Come state affrontando l'emergenza abitativa sul territorio? Assumendo un ruolo di prima linea, in prima linea anche al di là di quelle che sono le competenze del Comune. L'emergenza abitativa purtroppo nel nostro territorio da tanti anni è letteralmente esplosa, soprattutto in questo periodo a seguito anche di scelte di livello nazionale e regionale e quindi il Comune come ente più vicino al cittadino si fa carico di un problema enorme della garanzia del diritto alla casa, ma lo facciamo con grande convinzione facendoci carico, ripeto, di competenze che forse non ci spettano, cercando di dare risposte a tutte le situazioni, non singole situazioni ma tutte, quindi questo vuol dire che stiamo cercando di dare una risposta ai casi specifici nel quadro di un intervento di carattere più generale. Io vorrei ricordare che dopo sette anni abbiamo riaperto il bando per l'emergenza abitativa che è ancora aperto, che si chiuderà l'8 marzo, quindi è anche una sollecitazione a tutte le famiglie che vivono in grande difficoltà a partecipare a questo bando che finalmente dopo sette anni di blocco è stato riaperto e soprattutto all'interno dei tavoli istituzionali stiamo lavorando per bloccare anche situazioni emergenziali di sfratto. L'altro giorno proprio al tavolo della Prefettura c'è stato un intervento proprio per impedire che questa emergenza abitativa possa aggravarsi con ulteriori casi di persone che insomma vengono private della loro abitazione. Sindaco, il caso delle due donne sfrattate che vivevano in auto in attesa di un alloggio parcheggio a che punto è? Abbiamo affrontato questo caso fin da subito anche con i sindacati, ripeto, anche al di là delle nostre competenze perché non è ovviamente una situazione che è stata determinata dal Comune, non spetta al Comune risolvere casi specifici, non è stato mai fatto in passato. Detto questo ci stiamo facendo carico comunque della situazione, abbiamo alcuni immobili che sono disponibili come case parcheggio, una in particolare di cui si stava ragionando proprio con questa famiglia che però non è ancora pronta perché necessitano anche di lavori, però io vorrei ricordare a tutti che l'assegnazione delle abitazioni anche in emergenza abitativa devono rispettare la legge, devono rispettare comunque la sussistenza di requisiti e soprattutto una giustizia e un'equità sociale nei confronti di tutti, dietro le quali noi come amministratori dobbiamo muoverci perché non c'è la libertà, non possiamo fare scelte discrezionali, quindi ci si muove all'interno della legge dando le risposte di buon senso anche cercando di accelerare delle situazioni proprio a garanzia del diritto alla casa. Questo è uno di questi casi su cui stiamo lavorando da soli perché siamo rimasti da soli fin da subito ma ciò non vuol dire che dietro le difficoltà diventeranno un motivo per non agire, ovviamente ripeto c'è bisogno di tempi di intervento e soprattutto il rispetto dei requisiti per il rispetto generale di tutti coloro che oggi vivono situazioni di difficoltà.